Ed ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wake Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wake Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Pertet. Rufus Rafkat lo segue con la sua spacca tutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo, Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending con la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzo, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Appresso abbiamo l'amacigno mobile dei fratelli Slug, Rog e Gravel, quindi il diabolico coupé con la guida Bitcruzum. Proprio alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Luke e Buber. E all'ultimo posto sulla vettura 0-0, Dick Dastardly, pilota dall'astuzia proverbiale. Suo compagno di corsa è infedele Mattly che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via. Ma che succede? I piloti non si muovono dalla linea di partenza. È un altro degli sporchi trucchi di Dick Dastardly, che però ha ingranato la marcia indietro. In questo momento sono partiti. Inizia l'avventura del Wake Races. Inizia l'avventura del Wake Races.